Ciao ragazzi, oggi sto facendo un video su come avere un bikini body facilmente In questo video voglio mostrare a tutte le persone che me l'hanno richiesto Cosa sto facendo per rimanere in forma facilmente Sta arrivando l'estate e quindi è un argomento molto 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 importante Se questo video ti è piaciuto lasciami un pollice in su E lasciami un commentino qui sotto che ho scritto tutto quello che stai facendo tu per rimanere in forma E io vi dai di incominciare Per prima cosa io porto sempre dell'acqua e quindi ricordatevi di portarla Da avere sia prima dell'allenamento che dopo l'allenamento per fare alcune pause E quindi siamo pronti per fare bellissime camminate Io cerco sempre posti molto isolati perché voglio anche rilassarmi E perché non voglio fare nulla di fretta Quindi voglio camminare, correre e spesso vado con mia sorella come potete vedere Ciao 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 Un'altra cosa che aiuta molto è quella di tagliare il prato So che sembra una cavolata Ma in realtà si fa molta, si spreca molta forza E ci sono salite, discese, si suda molto Quindi è un buon modo per stare in movimento e portare anche un peso diciamo Dopodiché, finito tutto ciò, torno a casa e faccio una bella merenda Prima di tutto elimino le merendine Passo alla frutta Io amo tantissimo mangiare le noci insieme alla mela Non so perché ma mi piace tantissimo E poi faccio un detox con delle fragole Così mi ricordo sempre di bere perché è importante E continuo a mangiare frutta E poi faccio un po' E poi in questo caso bevo una spremuta di arance E questo ovviamente lo posso fare come colazione o come spuntino A seconda dell'orario in cui mi sono allenata Ok, spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse lasciami un pollice in su E lasciami un commentino qui sotto con scritto Come ti stai preparando tu per quest'estate Io vi adoro e spero che abbiate tutti un bikini body perfetto Vi auguro una buona giornata e ciao ragazzi!